Scatta la prima fase del grande piano del Comune di Portenone per portare a livelli d'eccellenza l'efficienza energetica di circa 90 edifici pubblici in città. La rivoluzione verde, mirata a contenere drasticamente inquinamento e consumi, comincerà da 16 fabbricati, tra scuole primarie dell'infanzia, palestre, centri aggregativi e musei. Il sindaco Alessandro Ciriani. Il Comune di Portenone vuole essere green negli esiti, non solamente nei proclami. Ecco quindi che accanto ad una possente infrastrutturazione fognare e captazione di acque meteoriche ha messo in campo anche una poderosa iniziativa economica finalizzata all'efficientamento energetico degli edifici pubblici a partire dalle scuole, all'utilizzo di energie green come quella fotovoltaica, all'istituzione delle caldaie e degli impianti obsoleti che sono la principale causa di inquinamento della città. Significa da un lato abbellire e rendere più funzionali i nostri edifici e dall'altro avere delle risposte in campo ambientale che attendevamo da parecchio tempo. L'investimento complessivo nel corso degli anni sarà di 6,7 milioni. Il piano condurrà risparmi energetici attorno al 17,6% e una riduzione delle emissioni inquinanti pari a 724 tonnellate di CO2. I primi interventi saranno realizzati sotto le festività natalizie. ... Grazie.